Tutti in piedi ragazzi, tutti in piedi ad applaudire un 36enne e ripeto 36enne che ancora fa la differenza in Serie A C'è gente di 20 anni che non segna manco con le mani in Serie A e lui invece butta due palle in rete a partita Ciao, Fabio Guagliarella ovviamente, bello a tutti da me, sta decidendo Spal Sampdoria Ma non è l'unica partita che è andata in scena in questo pomeriggio di Serie A perché ovviamente ci sono state anche altre partite Partirei molto rapidamente da quella che è stata Torino-Chievo-Verona Torino che passa in vantaggio con Belotti, sblocca la partita e poi praticamente nei minuti finali, 93esimo e 94esimo, qualcosa del genere Arrivano altre due reti, tra cui anche Zazza che c'ha il fantacaccio, ma baffa E quindi praticamente Torino che si porta a casa una vittoria importantissima Ormai il Chievo-Verona con tutti e due i piedi nella fossa difficilmente si salverà purtroppo Mi dispiace dirlo perché il Chievo è una squadra secondo me da Serie A Una squadra che ho sempre apprezzato e non vederla più in Serie A secondo me Si sentirà la mancanza di una squadra come il Chievo-Verona Una squadra fatta di giocatori magari non così giovani Una squadra tra le più vecchie di Serie A Che però alla fine è sempre riuscita a salvarsi e a svernare la situazione Mi sa che a sto giro e non vorrei, anzi vorrei provare a gufarla Vi dica la verità Ma poi, oltre a Spal Sampdoria, su cui adesso a breve torneremo Che se stavo a scaricare il tablet per quello per un attimo non avete più sentito l'audio C'erano anche altre due partite Importantissima per la salvezza, ragazzi Udinese-Bologna, ma una partita stranissima Io ovviamente le stavo guardando tutte su diretta Tranne Genoa-Frosinone che è finita 0-0 C'è stata un'espulsione per il Frosinone al 34esimo se non mi sbaglio E Genoa che non è riuscito ad approfittarne Secondo me hanno perso praticamente due punti Perché giochi in casa contro il Frosinone che è molto più sotto in classifica Se fanno le spelle in giocatore Tu in qualche modo la devi buttare dentro e portarti a casa i tre punti Se sei riuscito sono due punti persi E va bene Rapidamente sullo scontro salvezza tra Udinese e Bologna Dicevo partita stranissima perché l'Udinese nel primo tempo non ha fatto praticamente nulla Passa in vantaggio su calcio di rigore Ma l'unico tiro nello specchio Pareggia Palasio poco prima della fine del primo tempo E poi ragazzi miei Io ho detto sicuramente il Bologna è più probabile che se la porti a casa Nonostante l'Udinese giochi in casa E invece, scusate gioco dei parole E invece l'Udinese ha iniziato a macina gioco Ha iniziato a giocare bene Tant'è che Pussetto ha fatto il gol partita E questi sono tre punti importantissimi in ottica salvezza Tre punti importantissimi persi dal Bologna in ottica salvezza Perché? Perché l'Empoli ha pareggiato e addirittura ha guadagnato un punto Dalla terza ultima che è proprio il Bologna Quindi 22 l'Empoli 21, 20, 19, 18 resta il Bologna Almeno un pareggio gli serviva come il pane Ma visto come avevano giocato nel primo tempo ragazzi Potevano anche portarsi a casa i tre punti La cuffata deve sempre arrivare Io per questo mi stavo lasciando proprio questa partita Spal-Sampdoria Perché ho detto Ci arriviamo con Ma non pensate Sette minuti di recupero l'hanno dato Ma i mortacci Massa è punizione che ha battuto Kurtic ragazzi miei Una punizione spettacolare Quindi riapre la partita E visto che delle altre partite ho detto praticamente tutto Arriviamo proprio a Spal-Sampdoria Fabio Quagliarella ragazzi 11 minuti Gli bastano e gli avanzano per buttare due palle in rete Ma non solo perché prende anche un palo In posizione regolare Che quindi il VAR non avrebbe potuto annullare Perché nel riguardarla ci poteva stare qualche dubbio Che no assolutamente Preso palo Ha fatto due gol Uno dei semi rovesciata Uno dei capoccia nel suo stile Soprattutto in semi rovesciata Però Spal che aveva accorciato le distanze con Floccari Che non è anche lui poi così giovanissimo Per essere un calciatore Cioè da 35 anni non è tantissimo Però per essere un calciatore sono tanti anni È stato annullato per fuorigioco attivo di Petagna Se non me sbaglio È una difficile decisione scusate E niente quindi Rimane la Sampdoria sul punteggio del 2 a 0 Non che perché adesso è passata a vantaggio Cioè la Spal ha fatto il gol Però poi appunto la Spal riesce a fare attualmente Con un calcio di punizione Con Kurtic E quindi accorcia le distanze Adesso Spal Sti due minuti saranno di fuoco Perché proverà in tutti i modi A buttare una palla in rete Diciamoci la verità Chi ci guadagna di più da questa giornata? Beh sicuramente l'Udinese ci ha guadagnato tantissimo Ripeto sono punti I Mamma mia gabbiatina A momenti la butta dentro Sono punti importantissimi in ottica europea E dico lo stesso per il Torino Perché comunque Torino attualmente ragazzi Ha 41 punti Ha gli stessi punti della Lazio Ma Lazio che deve recuperare una partita con l'Udinese E 39 la Sampdoria Quindi anche la Sampdoria Dovesse portarsi a casa sta vittoria Sarebbero veramente punti molto molto importanti Chievo che affossa Bologna che ripeto Ha perso una grandissima opportunità Con la diretta concorrente Cedevi almeno pareggiare Non dico vince Però Poteva farlo Perché comunque ha giocato Sicuramente un'ottima partita E Spal Sampdoria Secondo me ragazzi Alla fine la Sampdoria Il colpo da maestro Il colpo di genio Di Fabio Quagliarella Per due volte Gli sta Gli sta Regal Rosso Accionec Ha sgambettato Io perché sto parlando E quindi non mi rendo conto Di quello che sta succedendo in campo Però secondo me Dovesse portarsela a casa La Sampdoria Sarebbe Sarebbe assolutamente meritata La vittoria Anche se ogni tanto Ragazzi la spalla Sicuramente si è affacciata Dalle parti della porta Della Sampdoria Sto rivedendo il calcio Di punizione Perché Esecuzione veramente Magistrale Ce l'avevo Lo scorso io Al fantacalcio Insegnava Manco coi peli Delle ascelle E mo butta palla in rete Come se non ci fossero domani Comunque il gioco è ancora fermo Credo che ci sarà Un minuto extra di recupero Anzi addirittura La Sampdoria Chiuderà in attacco Questa partita Proprio al novantasettesimo Quindi seguiamo L'ultima Occasione proprio per la Sampdoria Di poter Chi lo sa Fare un 3 a 1 Anzi un 1 a 3 Oppure una traversa Clamorosa Alla Olli e Benji Che si trasforma In un'azione Offensiva per la spalla Che butta dentro Il gol del 2 a 2 Chi può dirlo Ma vediamo perché Giustamente Se tengono la palla Cercano di non perderla Fanno un po' di melina Giusto per Che ha buttato una palla De merda Giusto per cercare Di assicurarsi I tre punti Che sembravano abbastanza Facili Dopo 11 minuti E invece È finita in questo momento Ci vediamo più tardi Perché ci stanno altri Tu post partita Tra cui stasera Napoli-Juve Ma non solo perché c'è anche Atalanta-Fiorentina Ciao